Chi vuoi controllare? Facciamo girare il karma Mi sembra scontato Scusi per il ritardo, prof E tu che ridi, tonta? Ops, ti sei fatto male? Non ti impicciare Poverina, come fa a sopportarlo? Ti mollo, mi è stufata Quindi non gli piaceva la sua ragazza Scopriamo chi è Ciao Elena Che vuoi? Devi sapere una cosa Dimmi Mi piace tua madre